Grazie a tutti! La stazione, che l'ha vista perfettamente a proprio agio, ha spaziato su tanti argomenti, dall'esperienza della guerra alla sua giovinezza, dalla sua famiglia ai suoi nipoti e pronipoti, fino alla passione per l'uncinetto e dai momenti più significativi del secolo da lei vissuto. La simpatica nonnina che trascorre le sue giornate in casa è informata sugli sviluppi della pandemia del coronavirus e non ha nascosto la sua preoccupazione. Sai che è in corso la campagna di vaccinazione, ma aspetta ancora di ricevere la propria dose. Auguri di lunga vita e di buona salute, ha ripetuto più volte a tutti, mentre, circondata dall'affetto della famiglia, si è goduta la festa, che è durata per tutto il giorno. Una festa davvero meritata, da lei apprezzata e vissuta con grande gioia. Le abbiamo chiesto il segreto della sua longevità. Che faccio quando mangio? E dopo?